il libro della giungla i fratelli di mogli erano le sette di sera di una giornata torrida sulle colline di sione quando papà lupo si destò dal suo pisolino si grattò sbadigliò e sgranchì le zampe l'una dopo l'altra per scioglierle dal torpore mamma lupa il grosso muso grigio per terra se ne stava distesa tra i suoi quattro cuccioli vispi e chiassosi e la luna splendeva dall'imboccatura della tana dove vivevano disse papà lupo è ora di tornare a caccia fece per balzare giù dalla collina quando una piccola ombra dalla coda folta comparve sulla soglia e mugolò buona fortuna a te o capo dei lupi che i tuoi nobili figli possano avere zanne bianche forti e che non dimentichino mai gli affamati del mondo era lo sciacallo tabacchi il lecca piatti disprezzato da tutti i lupi dell'india perché se ne va in giro a raccontare frottole e a combinare guai e a mangiare cinci e pezzi di pelle tirandoli fuori dalla spazzatura dei villaggi ma è anche temuto perché tabacchi più di ogni altro abitante della giungla può perdere la ragione e allora si dimentica ogni paura e si mette a correre per la foresta zannando tutto quel che trova perfino la tigre scappa a nascondersi quando il piccolo tabacchi impazzisce perché la pazzia è la cosa peggiore che possa capitare a un animale selvatico noi la chiamiamo rabbia ma loro la chiamano di uoni follia e se la danno a gambe entra dunque e guarda disse papalupo bruscamente ma non troverai nulla da mangiare per un lupo no rispose tabacchi ma per un miserabile come me un osso spolpato è un lauto banchetto chi siamo noi gli durlog il popolo degli sciacalli per storcere il naso sgattaiolò in fondo alla tana dove trovò un osso di cervo con ancora un po di carne attaccata e si accovacciò a rosicchiarlo tutto felice grazie mille per quest'ottimo pasto disse leccandosi le labbra e che belli sono i tuoi nobili figli che occhioni hanno e come sono giovani è proprio vero i figli dei re nascono adulti fin dal principio tabacchi ovviamente sapeva che non vi è nulla di più funesto del far complimenti davanti ai bambini e godette del vedere quanto papalupo e mamma lupa fossero a disagio rimase accoccolato a gustarsi il misfatto poi disse maliziosamente il grande shere khan ha cambiato territori di caccia a partire dalla prossima luna verrà a cacciare su queste colline me l'ha detto lui stesso shere khan era la tegre che viveva vicino al fiume wengonga a una trentina di chilometri di distanza non ne ha il diritto protestò papalupo la legge della giungla gli proibisce di cambiare zona senza aver dato il debito preavviso spaventerà tutti i capi di selvaggina nel raggio di 15 chilometri e io io ho da ammazzare per due di questi tempi non per nulla sua madre l'ha chiamato lungri lo zoppo disse mamma lupa sommessamente zoppica da un piede sin dalla nascita per questo ha ucciso solo bestiame ora gli abitanti dei villaggi lungo il wengonga ce l'hanno con lui e lui viene qui a dar noia ai nostri contadini se tacceranno la giungla e appiccheranno fuochi per stanarlo ma lui sarà già lontano e noi ai nostri piccoli ce la dovremo dare a gambe c'è proprio da essere riconoscenti a shere khan debbo informarlo della vostra gratitudine chiese da bachi fuori ringhiò papalupo vattene a cacciare col tuo padrone hai già fatto abbastanza male per questa sera me ne vado rispose tabachi tranquillamente si sente già il ruggito di shere khan nelle selve qui sotto avrei anche potuto risparmiarmi l'ambasciata papalupo tese l'orecchio e nella vallata sottostante che scendeva verso un fiumiciatolo udì il lamento rauco rabbioso e cadenzato di una tigre che non aveva catturato nulla e se ne infischiava che il resto della giungla lo sapesse che stupido disse papalupo cominciare una notte di caccia con un tale baccano crede forse che i nostri cervi siano come i suoi grassi manzi del wangunga stanotte non caccia né cervi né manzi disse mamma lupa caccia l'uomo il lamento si era trasformato in una specie di sonoro mugolio che sembrava venire da ogni direzione era il suono che terrorizza e taglia legna e gli zingari che dormono all'aperto e che a volte li fa correre dritti nelle fauci della tigre l'uomo esclamò papalupo scoprendo le zanne bianche non ci sono abbastanza scarafaggi e rane negli stagni perché debba venire a mangiare l'uomo e per giunta nel nostro la legge della giungla che non regola mai nulla senza un motivo proibisce a tutti gli animali di mangiare l'uomo a meno che non l'uccidano per mostrare ai loro piccoli come si uccide e anche allora devono agire fuori dal territorio di caccia del loro branco o tribù il vero motivo di tutto questo è che l'uccisione dell'uomo significa prima o poi l'arrivo di uomini bianchi con elefanti e fucili e di centinaia di uomini di colore con tamburi razzi e torce allora tutti nella giungla ne pagano le conseguenze tra di loro gli animali danno una spiegazione diversa e cioè che l'uomo è il più debole in difeso di tutti gli esseri viventi e non sarebbe leale aggredirlo dicono anche e questo è vero che i mangiatori di uomini diventano rognosi e perdono i denti il mugolio si fece più forte e finì con l'inconfondibile della tigre che si lancia all'appacco poi shercan mandò un urlo un urlo che non aveva nulla di tigresco ha mancato la preda disse mamma lupa come mai papà lupo corse fuori di qualche passo e sentì shercan che borbottava rabbioso mentre si agitava nella boscaglia quell'idiota è stato così furbo da buttarsi nel falò di un accampamento di taglia legna e si è bruciato le zampe disse papà lupo con un grugnito tabacchi è con lui qualcuno sta salendo per il pendio disse mamma lupa drizzando un orecchio sta in guardia ci fu un fruscio nel folto dei cespugli e papà lupo si accovacciò sulle zampe posteriori pronto a scattare allora se foste stati presenti avreste visto lo spettacolo più meraviglioso del mondo un lupo che si arresta in pieno salto papà lupo si era slanciato prima di vedere su cosa si stava avventando e poi aveva cercato di arrestarsi col risultato di balzare in alto per un buon metro e mezzo e ricadere quasi nello stesso punto un uomo ringhiò un cucciolo d'uomo guarda proprio di fronte a lui aggrappato a un ramo basso c'era un bimbo bruno e nudo che sapeva appena muovere i primi passi un esserino tenero e paffutello come non erano mai capitati di notte in una tana di lupi il bimbo alzò gli occhi verso papà lupo e rise è davvero un cucciolo d'uomo disse mamma lupa non ne avevo mai visti portalo qui un lupo abituato a trasportare i propri piccoli saprebbe all'occorrenza prendere un uovo in bocca senza romperlo e anche se le mascelle di papà lupo si serrarono sulla schiena del bimbo non un dente gli graffiò la pelle mentre lo deponeva tra gli altri lupacchiotti come piccolo come nudo e ardito disse mamma lupa dolcemente il bimbo si stava facendo strada tra i cuccioli per avvicinarsi al petto caldo di mamma lupa ai vuole mangiare insieme agli altri e così questo è un cucciolo d'uomo beh si è mai sentito di una lupa che ha avuto un cucciolo d'uomo tra i suoi piccoli ho saputo che è successo a volte ma di sicuro mai nel nostro branco e ai nostri tempi rispose papà lupo e guardalo è completamente senza pelo e potrei ucciderlo con un sol colpo di zampa ma vedi ci guarda e non ha paura il chiarore della luna scomparve dalla bocca della tana che venne occupata dalla grossa testa squadrata e dalle spalle di sherkhan tabacchi alle sue spalle guaiva padrone mio padrone mio è entrato qui che grande onore ricevere visite da sherkhan disse papà lupo ma i suoi occhi erano feroci di cosa ha bisogno voglio la mia preda un cucciolo d'uomo è entrato qui dentro rispose sherkhan i suoi genitori sono scappati datemelo sherkhan era finito in un falò di taglia legna come aveva detto papà lupo ed era fuori di sé per il dolore alle zampe bruciate ma papà lupo sapeva che la bocca della tana era troppo stretta perché potesse passarci una tigre già nel punto in cui si trovava sherkhan faceva fatica a muovere le spalle e le zampe anteriori come un uomo che cercasse di farsi spazio dentro un barile i lupi sono un popolo libero rispose papà lupo obbediscono solo al capobranco e non a un qualsiasi scanna buoi tigrato il cucciolo d'uomo è nostro e possiamo anche ammazzarlo se ci va se vi va o se non vi va ma di che stai parlando per quel toro che ho ammazzato devo forse star qui a cacciare il naso nel vostro canile per avere ciò che mi spetta sono io sherkhan che parlo il ruggito della tigre risuonò come un tuono dentro la tana mamma lupa si scrollò i cuccioli di dosso e balzò in avanti i suoi occhi simili a due lune verdi nell'oscurità fissarono quelli fiammeggianti di sherkhan e io sono rashka la diavola che ti risponde il cucciolo d'uomo è mio l'ungri appartiene a me e non sarà ucciso vivrà con il branco e andrà a caccia con il branco e alla fine vada bene cacciatori di cuccioli inermi mangia rane ammazza pesci alla fine darà la caccia anche a te e ora smamma o per il sambur che ho ammazzato perché io non mangio va che morte di fame ti rispedisco da tua madre brutto bestione bruciacchiato più zoppo di quando venisti al mondo via papà lupo la guardò sorpreso si era quasi dimenticato dei giorni in cui aveva conquistato mamma lupa battendosi con lealtà contro altri cinque lupi quando lei correva col branco e non era chiamata la diavola per complimento sherkhan poteva affrontare papà lupo ma non poteva vincere contro mamma lupa perché sapeva che era lei a trovarsi in vantaggio nel suo stesso territorio e che si sarebbe battuta fino alla morte così indietreggiò dall'ingresso della tana brillando una volta fuori gridò ogni cane abbaia nel suo cortile vedremo cosa avrà da dire il branco di questa idea di allevare i cuccioli d'uomo il cucciolo è mio e finirà tra le mie zanne razza di ladri dalla coda folta mamma lupa tornò ansimando tra i cuccioli e papà lupo le disse con tono serio sherkhan ha detto una cosa vera il cucciolo va presentato al branco vorresti davvero tenerlo madre tenerlo esclamò lei è arrivato nudo di notte solo e affamato eppure non aveva paura guarda ha già spinto da una parte uno dei miei piccoli e quel macellaio storpio l'avrebbe ucciso e sarebbe fuggito nella valle dei wangunga lasciando che i contadini per vendicarsi facessero strage di tutta la nostra cucciolata se voglio tenerlo sicuro sta tranquillo piccolo ranocchio arriverà il giorno in cui tu mogli perché così ti voglio chiamare mogli il ranocchio darei la caccia a sherkhan come lui ha dato la caccia a te ma cosa ne dirà il branco chiese papà lupo la legge della giungla stabilisce chiaramente che ogni lupo quando mette su famiglia può ritirarsi dal branco a cui appartiene ma non appena i suoi cuccioli sono abbastanza grandi da sapersi reggere sulle zampe deve portarli al consiglio del branco che di solito si riunisce una volta al mese e con la luna piena per farli conoscere a tutti gli altri lupi dopo questa ispezione i lupacchiotti sono liberi di correre dove vogliono e finché non hanno ucciso il loro primo cervo nessun lupo adulto può ucciderli per nessun motivo al mondo la punizione è la morte ovunque il responsabile si trovi e non è difficile capire che è giusto così papà lupo aspettò che i suoi cuccioli fossero in grado di correre un poco e poi la notte della riunione del branco li portò insieme a mogli e a mamma lupa alla rupe del consiglio la sommità di una collina coperta di rocce e macigni tra cui potevano nascondersi un centinaio di lupi achela il grosso lupo grigio solitario che guidava il branco in virtù della sua forza e della sua astuzia era disteso sulla roccia e sotto di lui stavano acquattati una quarantina di lupi di ogni dimensione e colore dai veterani grigi come tassi che potevano affrontare un cervo da soli ai giovani lupi neri di tre anni che credevano di poter fare altrettanto era ormai un anno che il lupo solitario li guidava in gioventù era caduto due volte in una trappola e una volta ne aveva prese tante da esser dato per morto così conosceva gli usi e i costumi degli uomini alla rupe non si facevano tante chiacchiere i lupacchiotti rotolavano l'uno sull'altro in mezzo al cerchio dove sedevano i genitori e di tanto in tanto un lupo anziano si avvicinava pian piano a un cucciolo lo guardava con attenzione e tornava al suo posto con passo silenzioso a volte una madre spingeva avanti il suo cucciolo al chiarore della luna per esser sicura che non passasse inosservato a chela dalla sua roccia gridava conoscete la legge la conoscete tutti guardate bene o lupi e le madri ripetevano ansiose guardate guardate bene o lupi alla fine e quando arrivò il momento il pelo si rizzò sul collo di mamma lupa papà lupo spinse mogli il ranocchio come lo chiamavano dentro il cerchio dove egli si sedette a giocare con alcuni ciottoli che splendevano al chiaro di luna a chela senza alzare la testa dalle zampe continuò a intonare guardate bene guardate bene da dietro le rocce si alzò un ruggito sommesso era la voce di shercan che gridava il cucciolo è mio datemelo che se ne fa il popolo libero di un cucciolo d'uomo a chela non drizzò nemmeno un orecchio disse soltanto guardate bene o lupi che importano al popolo libero gli ordini di uno che non è dei loro guardate bene ci fu un coro di sordi brontolì e un giovane lupo di quattro anni ripete la domanda di shercan ad a chela che se ne fa il popolo libero di un cucciolo d'uomo ora la legge della giungla stabilisce che se sorgono controversie sulla missione di un cucciolo nel branco devono prendere la parola in suo favore almeno due membri del branco che non siano il padre o la madre chi vuole parlare in difesa di questo cucciolo chiese a chela chi di voi popolo libero vuole parlare non essendoci alcuna risposta mamma lupa si preparò a battersi fino all'ultimo come ben sapeva se si fosse arrivati a quel punto allora l'unico altro animale a cui era concesso partecipare al consiglio del branco balù l'assonnato orso bruno che insegna la legge della giungla ai lupacchiotti il vecchio balù che può andare e venire dove gli pare perché mangia solo noci radici e miele si alzò sulle zampe posteriori e grugnì il cucciolo d'uomo il cucciolo d'uomo parlerò io per il cucciolo d'uomo un cucciolo d'uomo non può fare alcun male non avrò il dono dell'eloquenza ma dico la verità lasciate che corra col branco e che sia accolto come gli altri ci penserò io a istruirlo ora serve qualcun altro che parli disse a chela balù ha detto la sua ed è il maestro dei nostri cuccioli chi parla oltre a balù un'ombra nera piombò dentro il cerchio era baghera la pantera nera sul cui manto scuro come l'inchiostro si dipingevano a seconda della luce riflessi simili a quelli della seta amarezzata tutti conoscevano baghera e nessuno sava ostacolarle il passo poiché era astuta come tabacchi coraggiosa come il bufalo selvaggio e temeraria come l'elefante ferito ma aveva una voce dolce come il miele che stilla da un albero e una pelle più morbida della piuma o a chela e voi popolo libero disse ronfando non ho il diritto di intromettermi nella vostra assemblea ma la legge della giungla stabilisce che se c'è un dubbio su cui un nuovo cucciolo un dubbio cioè che non riguardi la sua uccisione la vita di tale cucciolo può essere riscattata e la legge non dice chi possa o non possa pagare il prezzo dico bene 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 risposero i giovani lupi che sono sempre affamati ascoltate baghera il cucciolo può essere riscattato è la legge so che non ho il diritto di prendere la parola qui e ve ne chiedo il permesso parla dunque gridarono venti voci uccidere un cucciolo indifeso è un'onta inoltre costituirà una preda migliore quando sarà cresciuto balù ha parlato in sua difesa e alle parole di balù ora io aggiungo un toro un toro bello grasso ammazzato di fresco a meno di un chilometro da qui se accoglierete il cucciolo d'uomo secondo la legge c'è qualche difficoltà vi fu un clamore di innumerevoli voci che dicevano che importa morirà durante le piogge invernali finirà arrostito dal sole che male può farci un ranocchio nudo ma sì accettiamolo nel branco dov'è quel toro baghera allora si udì il tratto cupo di achela che gridava guardate bene guardate bene o lupi mugli era ancora intento a giocare coi ciottoli e non si accorse dei lupi che venivano a scrutarlo a uno a uno poi discesero tutti la collina per andare a prendere il toro ucciso e rimasero solo achela baghera balù e i lupi di mugli sherkhan ruggiva ancora nella notte infuriato perché non gli era stato consegnato mugli grazie grazie grazie